Benvenuti a Noi Chiesa, la trasmissione che vi racconta tutto quello che accade nella vita della Diocesi di Chiavari. Siamo al culmine della Settimana Santa, celebreremo sabato notte la solenne Veglia Pasquale e domenica mattina la Pasqua di Ressurrezione. Questa Settimana Santa è stata caratterizzata dai tragici fatti di Bruxelles. Allora non possiamo non iniziare questo appuntamento settimanale con Noi Chiesa ricordando quelle che sono state le parole di Papa Francesco pronunciate dinnanzi ad una folla di fedeli durante l'udienza generale del mercoledì tenuta in questo mercoledì santo in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Papa Francesco ha pronunciato queste parole riferendosi a quanto accaduto il giorno precedente a Bruxelles. L'eco dolorosa degli attentati terroristici di Bruxelles è risuonata in Vaticano. Al termine dell'udienza generale il Papa ha pregato e ha chiesto di pregare nella Settimana Santa chiedendo al Signore di confortare gli afflitti e di convertire i cuori degli attentatori, persone accecate dal fondamentalismo crudele. Rivolgo nuovamente un appello a tutte le persone di buona volontà per unirsi nell'unanime condanna di questi crudeli abomini che stanno causando solo morte, terrore e orrore. Intanto a mezzogiorno in Belgio le campane di tutte le chiese hanno suonato a morto come segno di profonda tristezza ma anche di speranza hanno spiegato i vescovi del paese che hanno chiesto a tutti i fedeli di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime. In Italia il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha sottolineato che questi episodi così drammatici denunciano una carenza e un vuoto culturale in Europa, vuoto di ideali e di valori autentici che diano senso alla vita delle persone. Non penso che questi fatti così gravi, ha aggiunto, siano strettamente legati ai processi migratori. Si tratta di povera gente affamata, disperata, insicura e spaventata. Certamente, a concluso, l'Europa deve essere estremamente vigile. Ora veniamo in diocesi e seguiamo il cammino della settimana santa nelle celebrazioni che sono state presiedute nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto dal vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini. Siamo alla conclusione della Santa Messa della Domenica delle Palme. Qual invita i fedeli su come vivere questa settimana santa? Sì, il gesto dell'ingresso con le palme, l'ingresso nella Chiesa oggi vuol ricordare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Non è una festa che si chiude in sé stessa, ma è un momento che ci apre agli eventi della passione e risurrezione del Signore. Quindi ci fa entrare in un tempo santo. Se riuscissimo in una settimana all'anno a dare un po' una priorità diversa alla nostra vita, forse più che alle cose che dobbiamo fare quotidianamente, ma a dove va il nostro pensiero, quali sono le nostre vere preoccupazioni. E in questo modo potessimo fermarci un po' di più sul mistero di vita che noi viviamo seguendo Gesù nella sua passione, mettendoci alla sua scuola un po' di più. È invitato a far questo nell'Omelia, mettersi alla scuola del Signore e non pensando subito a enormi impegni eroici, ma proprio a vivere nella nostra casa, nel nostro ambiente, nel nostro lavoro, a vivere i sentimenti del Signore, i sentimenti di cordialità, di bontà, di umiltà, come dice Papa Francesco, di gratuità. Ecco, a dare questo spirito a quello che facciamo, proprio perché il pensiero corre a lui. Io credo che allora per noi davvero il tempo non è santo soltanto per le celebrazioni che vengono compiute, ma è santo per la vita che viviamo e per quello che trasmettiamo agli altri. C'era una frase nella lettura del profeta Isaia, consolare gli sfiduciati. E oggi io incontro tanti sfiduciati. Vorrei che gli discepoli del Signore non fossero sfiduciati, proprio perché hanno fiducia, quella fiducia che lui ci ha insegnato nel Padre, quella fiducia che ci ha insegnato lui stesso, non salvando se stesso, ma dandosi completamente per noi, che i discepoli del Signore non fossero sfiduciati e che anzi sapessero, volessero dire una parola non di amarezza, ma di consolazione, anche intorno. Più che una parola forse un comportamento che dà fiducia, che era serena, che dà forza. Ecco io credo che questo potrebbe essere un modo per tradurre anche con la nostra vita quello che ci viene donato con la passione del Signore. E allora anche la partecipazione delle celebrazioni, che spero numerose, perché sono sempre momenti non solo di preghiera, non solo di culto, possiamo dire, ma anche di profonda immersione nel mistero di Dio che si manifesta in Gesù. Ecco, anche le celebrazioni saranno molto significative. L'insegnamento lasciato da Gesù agli Apostoli che può essere ancora fatto proprio da ciascun fedeli. Deve essere fatto proprio, se no non c'è essere cristiani. Se non arriviamo a quello diventa soltanto una forma l'essere cristiani, uno stato anagrafico, un riprodurre gesti. Ma non è il vivere da cristiani, essere discepoli del Signore. Gesù ha detto se volete essere cristiani, perché tra l'altro più che il nome cristiani è venuto dopo il termine cristiani ad Antiochia. Ma il Signore ha detto se volete essere mio discepolo, cioè chiede il discepolato, cioè il seguirlo. Se volete essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, mi seguo. E questo è l'unica cosa che darà significato alla nostra presenza nel mondo. Certamente senza dimenticare che tutto questo entra nella nostra vita anche attraverso la preghiera, i sacramenti. Questo è innegabile, ma si deve tradurre, deve diventare tutto della nostra esistenza. Lei ha anche richiamato il fatto che il discepolo non è schiacciato dalla croce. Che cosa significa? Appunto che non è un peso insopportabile e che diventa una condanna. ma diventa come per Gesù il vivere anche l'amicizia del Cireneo che prende la sua croce. Però detto questo, perché non è schiacciato? Perché prima di tutto sa che il Signore non è lontano. L'angelo di cui Luca ci parla, parlando dell'agonia di Gesù, è un angelo che consola, che non cancella la prova, ma sostiene nella prova. Poi Gesù ha detto pregate per non entrare in tentazione. Quindi c'è un mezzo che ci sostiene per affrontare la prova. La preghiera, vera, seria, serena, fiduciosa. E poi Gesù ci ha parlato proprio nell'estremo dell'affidare se stesso al Padre. Anche questo diventa il grande sostegno della vita del discepolo, che non è illusorio, ma è la fede. L'amore del Padre ci sostiene. E la nostra vita ha valore perché viene gettata nelle braccia del Padre. Tutto questo non schiaccia, ma aiuta, sostiene. Se lo viviamo. Nel racconto degli ultimi giorni della vita terrena di Gesù c'è un riferimento particolare anche ai sentimenti di coloro che vi hanno preso parte. Monsignor Alberto Tanasini lo ha messo in evidenza nelle celebrazioni di questo Mercoledì Santo, nel cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso e nel carcere di Chiavari. Uno di questi è l'atteggiamento di Gesù che, pur nella consapevolezza di ciò che gli accadrà, condivide la cena con gli apostoli. Momento familiare per ogni ebreo, gesto di lode e di ringraziamento per ciò che Dio ha fatto per il suo popolo. Nella prova, nel momento della difficoltà, ciò che è risolutivo è la solidarietà, la condivisione, il dialogo. Perché solo questo permette la conoscenza obiettiva delle situazioni, consente la messa a fuoco dei problemi e anche permette di cercare con libertà interiore le soluzioni. Nel gesto di Cristo c'è la consapevolezza del fatto che la solidarietà umana e la condivisione sorreggono nella prova, anche la più odiosa, quella del tradimento. Nel cantiere la situazione che assicura il lavoro è favorevole. Ma certo non mancano le difficoltà e le prove. Allora questa parola di fiducia che ci deve sostenere ci invita ad affrontarla in modo da costruire insieme il bene di tutti. Chiediamo a Dio che questa lingua sia la lingua della saggezza, della saggezza e dell'umanità. E sulle figure di Gesù e di Giuda il vescovo è tornato anche nell'omelia della messa nel carcere di Chiavari. Nel loro rapporto c'è già l'annuncio della misericordia. Gesù non si lascia fermare da niente nel suo amore, nella sua amicizia. Nel giardino, quando verranno a prenderlo e Giuda sarà con quelli che vengono a prenderlo, lo chiamerà amico, amico. Ed è una parola seria, non è una parola ironica, è una parola seria di Gesù. Amico, con un bacio tu mi tradisci, tradisci il studio dell'uomo. L'amicizia che nessuno può rompere è il rapporto che Gesù ha con ciascuno di noi, ha detto Monsignor Tanasini. E quante volte, ha aggiunto, tutti noi usiamo del Signore come Giuda per noi stessi, per un piano diverso dal suo disegno di salvezza. Ma nessuno, ha spiegato, può rompere questo rapporto di amicizia con il Signore ed è qui la possibilità di resurrezione anche per persone che scontano il carcere. È possibile risorgere, il Signore ce ne dà la forza. Ecco quello che ci dice oggi, in questa Messa Pasquale, il Signore. La Diocesi di Chiavari si unisce alla preghiera della Chiesa Universale per le vittime di guerre e attentati. Il Vescovo Alberto Tanasini ha ricordato nell'omelia della Messa Crismale anche i profughi e le persone defunte nella recente incidente in Spagna, nonché tutte le persone perseguitate a causa della religione. Rivolgendosi poi direttamente ai preti, ha ricordato che l'Eucaristia è la fonte della vita del sacerdote, discepolo del Signore che ogni giorno si mette alla sua scuola. Il valore eucaristico del sacerdozio impegna i presbiteri in due direzioni, nei rapporti con i confratelli e in quelli con la comunità. I preti sono mandati da Dio tra la gente come testimoni della risorto, non siamo preti da soli, ha ricordato, ma legati nel presbiterio con il Vescovo. Nel tempo segnato dall'individualismo siamo chiamati ad affermare la forza della condivisione fraterna. Riguardo al rapporto con i fedeli, Monsignor Tanasini ha parlato di una comunione dinamica e missionaria nelle comunità. Non temete l'ascolto dei fedeli, ha detto, e nemmeno la consapevolezza che non sono i nostri sudditi e noi non siamo padroni della nostra comunità. Nel corso dell'ultima cena Gesù istituì l'Eucaristia e poi disse, fate questo in memoria di me. Rivivendo un evento fondante del cristianesimo, la Chiesa afferma la presenza viva del Signore che si dà agli uomini. Lo ha ricordato il Vescovo Alberto Tanasini nell'Omelia della Santa Messa in cena domini. Gesù si dà perpetuamente a noi, questo è il gesto dell'amore. Nella storia dell'umanità, tra la Pasqua e il ritorno glorioso di Cristo, i fedeli celebrano l'Eucaristia entrando così nell'azione di Gesù per farla propria. Ecco perché questo evento è fondamentale. Spesso, ha commentato il Vescovo, resiamo abbagliati dai fatti che hanno grande risonanza. Non ci rendiamo più conto di quali siano le forze vere che toccano il desino degli uomini, la forza dell'amore, dell'adorazione, del ringraziamento, della lode, dell'espiazione. Tutti questi valori sono messi in campo dall'Eucaristia. In opposizione a tutto questo però operano le forze dell'odio e dell'impietà. Viviamo in una tensione tra il pessimismo più tetro e l'ottimismo più svaccato, ha rimarcato Tanasini. Continua nel tempo la grande lotta tra il bene e il male. E noi, che abbiamo l'arma dell'Eucaristia, come la sfruttiamo? Si tratta di una medicina per la debolezza umana. È il sacramento quotidiano che entra nelle ferite del nostro vivere di ogni giorno. L'Eucaristia, aggiunto, è anche il sacramento di misericordia perché possiamo offrirla per i nostri defunti. Il Vescovo, come tradizione, ha lavato i piedi a dodici uomini mentre il coro eseguiva il canto Ubi Caritas Est Vera Deus Ibi Est. La lavanda dei piedi fatta da Gesù agli Apostoli nel contesto dell'ultima cena, ricordato il Vescovo, è un gesto di umiltà ma anche di ospitalità. Se io che sono i signori ho fatto questo, disse Gesù, anche voi dovete farlo. In questo tempo di odio che vede nella morte la via per asservire l'uomo, guardiamo la croce, fonte di misericordia e fonte di vita. Questo è in sintesi l'invito del Vescovo nella liturgia della Passione del Venerdì Santo. Gesù, ha ricordato Monsignor Tanasini, ha sofferto come noi e ha sofferto per noi, ma ha preso su di sé. E come dicesse egli l'innocente, senza alcuna colpa, l'agnello, come abbiamo sentito, dicesse di fronte ai peccati degli uomini, a tutto il male dal loro commesso sono stato io, prendendo così su di sé quei peccati e le loro sofferenze. Gesù ha preso su di sé il peccato, innanzitutto legandosi a noi, ha spiegato Monsignor Tanasini, facendo sua la natura e la condizione umana, conoscendo l'ingiustizia e l'oscurità del peccato, tutto l'abisso di vuoto che crea. D'altra parte, non ci rendiamo neppure conto di cosa sia realmente il peccato, perché non guardiamo a lui che ha detto non sanno quello che fanno, ossia non sapevano di crocifiggere il figlio di Dio, ma non sapevano nulla del mistero. Di fronte a tutto questo, al no che con grande superficialità l'uomo dice, egli ha detto il suo sì e così ha riempito quel vuoto con un abisso di amore, di obbedienza, di umiltà, con un fiume di vita divina. Di qui l'invito a guardare a Gesù non solo come il taumaturgo, il maestro, l'uomo dalla parola ineffabile, ma come il redentore, perché è lui la risposta alla domanda di Pilato, cos'è la verità? Nella sua morte c'è già la vita e la vittoria. Un appuntamento tradizionale del giorno del venerdì santo è la via Crucis dell'Azione Cattolica Ragazzi, che quest'anno è stata ospitata a Rapallo ed in particolare ha avuto la sua partenza dalla chiesa di San Francesco e l'arrivo nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Vediamo. Dalla miseria alla misericordia, il percorso della via Crucis di quest'anno ha voluto proporre ai ragazzi un viaggio nell'interiorità di ciascuno. Pensando alla via Crucis siamo lasciati accompagnare dall'anno santo, il giubileo della misericordia. È stato proprio un passaggio guidati dalla croce di Gesù, dalla miseria, meglio dalle nostre miserie, fatiche, mancanze, alla misericordia. Le nostre miserie affidate a Gesù, al suo amore, guardate dal suo amore e poi tre tappe, tre tappe che hanno richiamato attraverso anche delle parti del corpo proprio la misericordia. Occhi di misericordia, in grado di accorgersi dell'altro, delle sue mancanze, dei suoi bisogni. Un cuore di misericordia che si muove a compassione, capace di gioire e soffrire con l'altra persona. E l'ultima tappa, mani di misericordia, mani che si sporcano, che si prendono cura poi concretamente dell'altro. Come segno una croce che sarà costruita il prossimo anno, realizzata dalle piccole tante croci che ciascuno si trova ad attraversare e a portare nel corso della sua vita. Qual è stato il segno che avete voluto proporre? Il segno che abbiamo dovuto proporre è nato quasi durante la via Crucis, pensando a questi pezzettini di legno che sono stati affidati ai ragazzi, dove hanno scritto la loro miseria e poi unendo, mettendo insieme tutti questi pezzettini di legno, ci piacerebbe proprio costruire una grande croce da poi poter utilizzare per le prossime via Crucis. Un modo di dire che le nostre miserie sono affidate, sono dentro, sono portate, sono condivise dalla croce di Gesù. Ora facciamo un passo indietro e torniamo a sabato scorso, quando la comunità ucraina del Levante Ligure si è ritrovata a Chiavari per celebrare quella che secondo il rito bizantino è l'inizio della Quaresima. Quest'anno infatti c'è una forte discrepanza fra la Pasqua celebrata secondo il calendario gregoriano e quella celebrata secondo il calendario giuliano. I cattolici di rito bizantino infatti celebreranno la Pasqua il prossimo primo di maggio. A Chiavari l'appuntamento per la comunità ucraina del Levante Ligure è anticipato di un giorno, per sabato 30 aprile. Ma c'è un altro appuntamento che è stato annunciato proprio durante la celebrazione di inizio della Quaresima che coincide con la festa dell'ortodossia. Un appuntamento per tutti i cattolici di rito bizantino che si trovano in Liguria che sarà il prossimo 5 giugno quando sarà celebrato il Giubileo. Vediamo. I cattolici di rito bizantino del Levante Ligure si sono riuniti per celebrare l'inizio della Quaresima che ha coinciso con la festa dell'ortodossia. Un momento molto sentito ma qual è l'importanza di questa festa per i cattolici di rito bizantino? Per noi tutti i cristiani di rito bizantino la prima domenica della Quaresima è molto importante perché si celebra proprio sempre la solennità dell'ortodossia. Ricordiamo il Concilio di Nicea quando è stata una proclamazione della dogma come possiamo venerare in modo giusto le icone e tutto quello che riguarda la nostra fede. Così quando la gente ha ascoltato le direttive e i canoni della Chiesa ha cominciato a tirare le icone nascoste dai loro magazzini dai luoghi nascosti perché erano perseguitati in quel periodo e hanno preso queste icone e hanno fatto la processione esclamando veramente alleluia una gloria a Dio che si manifesta anche tramite le cose dipinte fatte dalla mano di uomo ma sempre per la gloria di Dio. Così sono usciti con queste icone per benedire la città e i suoi abitanti. Noi seguendo il loro esempio abbiamo fatto questa processione oggi a Chiavari e siamo ben contenti perché una opera della misericordia è pregare. Forse questa preghiera non è stata molto visiva ma sempre una richiesta della misericordia di Dio. Così abbiamo fatto oggi una piccola opera della misericordia non soltanto verso quelli che frequentano questa chiesa ma anche tutti gli abitanti di Chiavari. Che non lo sanno ma lei proprio oggi assieme ai fedeli della comunità ucraina avete invocato proprio la misericordia di Dio sulla città di Chiavari. Sì quest'anno dalla misericordia abbiamo già tante testimonianze come Dio ha mostrato la sua misericordia. È vero chiedete e vi sarà dato. Abbiamo un grande fede che Dio ascolta la nostra preghiera e spero che tutti quei chiavaresi lo chiedono che veramente l'Italia, Ucraina, anche tutti i paesi del mondo avranno questo dono della misericordia di Dio. Abbiamo creduto troppo nelle armi, nella forza, nelle manipolazioni così tra gli uomini e non abbiamo portato il mondo a un buon risultato. Invece chiedendo la misericordia di Dio possiamo sciogliere queste catene che abbiamo fatto tramite i nostri peccati, tramite le nostre debolezze e tutto quanto che veramente ha distrutto il mondo. Così la misericordia può salvare il mondo. Lo crediamo, lo chiediamo e vogliamo chiedere a tutti quanti di essere uniti proprio non soltanto nel pregare ma anche nel fare, dare a Dio la possibilità tramite noi mostrare questa misericordia. Il 30 aprile si celebra la Pasqua e poi il 5 giugno avrete un grande appuntamento a Chiavari proprio nell'anno santo della misericordia. veramente abbiamo questa bellissima occasione di celebrare la Pasqua insieme con il nostro popolo che segue il calendario bizantino. Dico sempre quest'anno abbiamo una grande differenza di 5 settimane. Voi finite la quaresima e festeggiate la Pasqua e invece noi appena abbiamo cominciato. Ma nonostante, ecco, facendo, usando questa occasione vorrei fargli auguri veramente di buona Pasqua, di buon cammino dal peccato verso la risurrezione della vita nuova che il Signore ci ha proposto. E questa vita nuova è la misericordia. Così auguro a tutti voi vivere questo momento della misericordia. Nella risurrezione si capisce meglio la misericordia del padre che ha ridato la vita al proprio figlio. Vi auguro sempre questa misericordia del nostro buon padre. Noi anticipiamo di un giorno la Pasqua perché la Pasqua della domenica si festeggia il primo di maggio. Invece qui a Chiavari sarà di sabato. Così invitiamo tutti voi di rivivere questo momento della risurrezione. Il 5 giugno oggi la capo della comunità ha annunziato che facciamo questa grande festa del decimo anniversario della presenza della nostra comunità qui a Chiavari. È invitato il vescovo di Onisio Lakovic che è visitatore apostolico che viene da Roma. è invitato il nostro vescovo Alberto Tanasini. Sono invitati altre persone. Così avremo questa veramente occasione di celebrare e ringraziare Dio per questi dieci anni. E allora abbiamo questa occasione di celebrare proprio nella cattedrale dove c'è la porta della misericordia. Così facciamo insieme con il nostro anniversario facciamo anche il giubileo della misericordia. È veramente un dono, grande dono di Dio che noi possiamo vivere e rivivere ma siamo veramente pieni di questa grazia di Dio. Monsignor Alberto Tanasini celebra la solenne veglia pasquale sabato sera nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Potrete seguire la celebrazione in diretta tv su Telepace 1 al canale 15. Domenica mattina alle 10 sempre in cattedrale la messa di Pasqua anche in questo caso diretta tv su Telepace 1 al canale 15. Lunedì 28 aprile, lunedì dell'Angelo, il Vescovo celebrerà la Santa Messa nella residenza protetta delle Dame e Damine di San Vincenzo nel quartiere chiavarese di San Pier di Canne. L'appuntamento è alle 10. Mercoledì 30 marzo l'inizio ufficiale dei lavori di ristrutturazione del centro Franco Chiarella di Chiavari. Il villaggio del ragazzo realizzerà qui un dormitorio per persone senza fissa dimora. La cerimonia di posa della prima pietra è stata fissata per le 11. Terminiamo così questo appuntamento settimanale con noi Chiesa. Il nostro viaggio alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.